Ciao ragazzi, continuiamo a parlare di Tasso anche oggi, concludendo l'autore. Dedicheremo questo video bigino alla Gerusalemme liberata, il suo grande capolavoro. La Gerusalemme liberata è un poema epico, o come lo chiama Tasso eroico, composto da 20 canti in ottave, al quale Tasso lavorò in modo travagliato tra ripensamenti e rielaborazioni, praticamente fino alla morte. L'argomento principale del poema è un argomento storico, un fatto realmente accaduto, ovvero la prima crociata, che durò tre anni, dal 1096 al 1099. Questa crociata venne indetta da Papa Urbano II e guidata dal grande condottiero Goffredo di Buglione. L'obiettivo di questa crociata era la conquista di Gerusalemme e in particolare del Santo Sepolcro. L'idea di scrivere un poema dedicato a un evento storico venne a Tasso quando era ancora giovanissimo, pensate a 16 anni. Si trovava a Venezia, il poema poi in seguito viene interrotto, il Tasso è ancora troppo giovane per completarlo, ripreso nel 65 e infine completato nel 75 con il titolo di Goffredo. Subito l'opera viene letta al Duca Alfonso II di Ferrara, a cui è dedicata, e alla sorella Lucrezia. Il Duca è entusiasta, vorrebbe pubblicare immediatamente l'opera, ma come sappiamo il 1575 è l'anno che segna la frattura psicologica. Tasso inizia a manifestare quella pazzia che lo accompagnerà per tutta la vita. Dal 1576 inizia per Tasso quella tormentosa revisione del suo lavoro che lo porterà a un completo rifacimento con il titolo di Gerusalemme conquistata nel 1593. Quest'opera ha un valore artistico nettamente inferiore e quindi non l'analizzeremo. Torniamo invece agli anni in cui Tasso ha appena completato il suo lavoro. L'attesa del pubblico è enorme e quando Tasso viene rinchiuso attorno agli anni 80 nel manicomio di Sant'Anna, l'opera viene pubblicata senza l'autorizzazione del poeta, prima a Venezia nel 1580 e poi a Ferrara nel 1581. Ma come mai la Gerusalemme liberata ebbe un successo così immediato e rapido? Innanzitutto perché tratta un tema terribilmente attuale nella seconda metà del Cinquecento, quando in Europa, in particolare a Venezia, aleggiava lo spettro di un imminente scontro tra i turchi, i musulmani e i cristiani. Non bisogna dimenticare che nel 1558 gli ottomani erano addirittura arrivati in Italia, avevano assaltato Sorrento e in questa occasione la sorella di Tasso aveva rischiato di essere rapita. Inoltre nella memoria e nell'immaginario dei lettori contemporanei è viva l'immagine appunto della vittoria navale di Lepanto del 1571, in cui proprio i turchi ottomani vennero sconfitti dalla lega santa formata da Venezia, Genova e la Spagna. Inoltre il clima che aleggia è quello della controriforma e della lotta alle eresie, ecco quindi spiegato il successo dell'opera. Parallelamente alla composizione della Gerusalemme liberata, Tasso maturò anche una profonda riflessione teorica che come abbiamo visto nella puntata precedente è rimandata ai discorsi dell'arte poetica. I suoi modelli principali sono l'epica classica, quindi Omero e Virgilio, ma in particolare anche la poetica di Aristotele scoperta proprio nella seconda metà del Cinquecento. Importante anche chiaramente l'influsso e la grande fortuna che ebbe Ariosto. Passiamo alla definizione di genere. Tasso definisce il suo capolavoro un poema eroico e in particolare definisce il poema eroico un poema che imita azioni illustri al fine di muovere gli animi con la meraviglia. Cioè come dice nell'Incipit, attraverso i molli versi vuole miscere utile dolci, ovvero unire l'utile al dolce, cioè divertire il lettore attraverso esempi da imitare utili a tutta la società. Da una parte abbiamo la verità storica, la prima crociata, dall'altra invece il meraviglioso, quindi magie e incantesimi. Un meraviglioso che però, a differenza di Ariosto questa volta, è cristianizzato. Infatti le magie e gli incantesimi si inseriscono nell'eterna lotta tra Dio e Satana che attraverso l'intervento dei loro emissari, quindi demoni e angeli favoriscono uno o l'altro dei due schieramenti. Per quanto riguarda la struttura del poema si può riconoscere il modello della tragedia classica descritta appunto nella poetica di Aristotele. Secondo Aristotele la tragedia doveva mantenere certe unità e in particolare cinque atti di lunghezza. Infatti i venti canti della Gerusalemme liberata possono essere in realtà divisi in cinque grandi parti. Inoltre è rispettata l'unità d'azione. Tasso racconta fondamentalmente una vicenda e l'inserimento di episodi secondari non interrompe mai il filo del racconto. Vediamo ora la trama della Gerusalemme liberata. Essa risulterà molto più semplice rispetto a quella dell'Orlando furioso nel quale si intrecciavano decine e decine di storia. Tutto ha inizio quando i crociati sono ormai partiti da sei anni per conquistare Gerusalemme. L'arcangelo Gabriele appare a Goffredo di Buglione e lo elegge capo della cristianità armata. Egli raduna tutti i cavalieri paladini cristiani dispersi in ambizioni egoistiche, l'infiamma di ardore religioso e li guida contro gli infedeli per assediare Gerusalemme e conquistare il santo sepolcro. Fra i cristiani brilla il valore di Tancredi ma soprattutto di Rinaldo. Questo personaggio è molto importante perché attraverso di lui Tasso realizza il motivo encomiastico, ovvero il momento in cui l'autore celebra il proprio signore. Rinaldo sarà infatti il capostipite della famiglia d'Este. Tra gli infedeli invece guidati dal re Aladino spiccano le figure di Argante e in particolare quella di Clorinda. Questa è una bellissima e valorosa guerriera pagana che prova un amore corrisposto ma impossibile per il crociato cristiano Tancredi, il quale in un duello verso la fine dell'opera, non riconoscendola perché è mascherata dall'armatura, la ferirà a morte. Clorinda esalando l'ultimo respiro infine si convertirà proprio al cristianesimo. Paradiso e Inferno partecipano alle varie fasi dell'assedio della città, soprattutto i demoni. Ecco che la maga Armida inganna alcuni crociati, tra cui Rinaldo, con una falsa richiesta d'aiuto. Li seduce e li allontana dalla battaglia. Rinaldo è così prigioniero nel paradiso erotico delle isole fortunate. Da gravare ancora di più la situazione dei crociati intervengono altri demoni, guidati questa volta dal mago Ismeno, che compiono una sorta di incantesimo sulla selva di Saron. Ecco, questa selva sarà molto importante all'interno del poema perché è l'unico luogo dal quale i crociati possono trarre il legname necessario per costruire le macchine da guerra con cui assaltare Gerusalemme. La situazione per i cristiani inizia a risollevarsi proprio quando Rinaldo viene finalmente liberato dall'incantesimo erotico che lo teneva relegato sulle isole fortunate. Questo incantesimo viene rotto proprio da colei che era stata l'autrice di questo sortilegio, ovvero la maga Armida. Questa figura inizialmente è nemica di Rinaldo ma gradualmente si innamorerà di lui perdutamente e lo lascerà libero di compiere la sua grande missione. Rinaldo dunque torna sul campo di battaglia, può sciogliere l'incantesimo della selva e così i crociati possono sferrare l'assalto decisivo e conquistare Gerusalemme. Qui si chiude appunto la trama del poema. Bene ragazzi, cerchiamo ora di rispondere a una classica domanda da interrogazione, ovvero quali sono le differenze tra l'Orlando furioso dei Ariosto e la Gerusalemme liberata di Tasso. Innanzitutto bisogna considerare che i tre grandi poemi che scandiscono il 400 e il 500, ovvero l'Orlando innamorato, il furioso e la Gerusalemme liberata, scorrono nell'arco di 100 anni, 99 per l'esattezza. L'Orlando innamorato è del 1481, la Gerusalemme liberata è del 1580. In quest'arco di tempo il poema subisce una grande maturazione. Vediamo ora tra Ariosto e Tasso cosa cambia. Innanzitutto Ariosto deve seguire un compito linguistico, quello che gli era stato consigliato da Pietro Bembo. Tasso invece ha già un italiano letterario all'interno del quale ricavare il proprio stile. La Gerusalemme presenta una ferrea unità d'azione, a differenza del furioso nel quale invece Ariosto annoda nel suo gomitolo centinaia di storie senza rispettare quest'unità. Un'altra differenza riguarda la gerarchia ferrea che nella Gerusalemme sta appunto nei personaggi tra protagonisti e secondari, questo invece è molto difficile trovarlo nell'Orlando furioso dove pochi personaggi hanno veramente un valore superiore rispetto agli altri. Molto importante, un'altra differenza è il principio di vero semiglianza. Tasso rifiuta la pura invenzione fantastica e la magia è sempre legata alla lotta morale tra bene e male. Tasso insomma punta sulla storia attuale, sulla storia con la S maiuscola. Ariosto invece si dedica a un mondo di pura fantasia, una letteratura che si rifà sempre ad altra letteratura. Profondamente diverso è anche il modo di raccontare la storia. Da una parte Ariosto ha un narratore che interviene spessissimo nel suo racconto, usa l'ironia, dall'altra parte Tasso invece assolutamente non interviene, il suo stile infatti è molto più alto e elevato, quello di Ariosto invece è più, diciamo uno stile medio, a volte anche comico. Ecco che Tasso dunque è chiuso all'interno di un sistema di regole che vuole rispettare, mentre Ariosto è nettamente più libero. Da una parte Tasso si rivolge a un pubblico religioso, mentre Ariosto è un pubblico nettamente laico. Un'altra differenza riguarda la netta contrapposizione della Gerusalemme liberata tra i crociati che rappresentano il bene e i musulmani che rappresentano il male. Nell'Orlando Furioso invece l'ideale cavalleresco unisce sia i cristiani che i pagani. Il tema principale della Gerusalemme liberata è la guerra santa e assolutamente non l'amore, che invece è la vera spinta che muove tutti i personaggi all'interno dell'Orlando Furioso. Infine un'ultima differenza riguarda le figure femminili, perché in realtà in Ariosto le figure femminili non hanno assolutamente uno spessore psicologico, invece nella Gerusalemme liberata esse appaiono maggiormente caratterizzate. Grazie a tutti! Grazie a tutti.